La confisca dei beni è uno degli strumenti più importanti nel contrasto da parte dello Stato alla criminalità organizzata, proprio per questo sempre più attenzionata dalle istituzioni. In quest'ottica si è svolta questa mattina, su impulso del prefetto di Caltanissetta, una riunione finalizzata a realizzare un monitoraggio sui beni immobili già oggetto di confisca nei confronti di esponenti della criminalità organizzata e assegnati ai comuni della provincia nissena. In particolare il prefetto ha sottolineato come l'obiettivo dell'incontro sia quello di verificare l'effettivo riutilizzo dei beni sottratti alla criminalità organizzata al fine di attuare il principio previsto dalla norma vigente del riuso sociale degli stessi. Durante la riunione, presieduta dal prefetto, erano presenti in collegamento dal remoto il referente dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, sede secondaria di Reggio Calabria, Massimo Nicolò, e i sindaci della provincia di Caltanissetta. Il dottor Nicolò ha ringraziato il prefetto per aver promosso l'incontro, poi ha rassicurato i sindaci garantendo loro il massimo supporto per qualunque esigenza si manifesti nell'ambito delle procedure che riguardano i diversi beni assegnati alle amministrazioni comunali. Grande apprezzamento è stata manifestata anche da parte dei sindaci per l'importante occasione di confronto offerta che ha consentito di esaminare alcune criticità ed individuare rapidamente soluzioni per completare l'iter finalizzato a destinare beni a finalità sociali.